Perché noi ci dobbiamo ricordare che l'agricoltura, l'agroalimentare, il settore vitivinicolo disegnano un pezzo fondamentale della nostra cultura, della nostra identità. È la ragione per la quale la difendiamo, è la ragione per la quale la promuoviamo, è la ragione per la quale diamo battaglia contro l'Italian Sounding, la contraffazione, la concorrenza sleale, tutto quello che toglie nome e risorse alle nostre produzioni è la ragione per la quale chiaramente stamattina abbiamo cominciato con i ragazzi perché se non si passa questa capacità di consapevolezza sul valore che questo settore ha per noi sul piano economico e sul piano della tutela dell'Italia, per la nazione che è, per la sua capacità di raccontarsi nel mondo, tutte le leggi che facciamo, le risorse che spendiamo non servono a niente. Quindi è fondamentale e sono molto contenta di vedere tantissimi giovani alvinita, le faccio anche tanti tanti complimenti agli organizzatori del Vignitari per questa edizione da numeri record e faccio ovviamente il mio in bocca al lupo e garantisco il sostegno del governo a tutta la filiera perché noi sappiamo quanta importanza passi da questa filiera. Grazie ancora davvero in bocca al lupo al Veneto!